L'offerta d'Oespar di trattori specializzati per vigneti e frutteti è la più estesa del mercato, spaziando da soluzioni completamente meccaniche a veri e propri concentrati di tecnologia. Oggi vi presentiamo le gambe dal contenuto tecnologico più avanzato, ovvero i 5DF, DS, DV e i 5DF, DS, DV, TTV. Le sigle F, S e V identificano diverse larghezze di trattori, partendo da 108 cm fuori tutto nel caso della versione V, arrivando via via a larghezze sempre più ampli, come nel caso della S o addirittura della F. La sigla TTV invece identifica la trasmissione a variazione continua di casa Deutz-Far, progettata dalla nostra ricerca e sviluppo e prodotta nei nostri stabilimenti. Per niente di queste gambe sono disponibili 5 motorizzazioni Far Motion, di cui 2 modelli a 3 cilindri con una potenza massima di 100 CV e 3 modelli a 4 cilindri con il top di gamma, che nella versione TTV arriva fino a 126 CV. Una cosa comuna a tutte le gambe, la ricerca spasmodica del comfort dell'operatore e la cura dei dettagli. Ma entriamoci in questi dettagli!